La voce ai pensionati della Wil per una basilicata differente e concreta. Questo lo slogan scelto per l'Assemblea regionale della Wilp Lucana che si svolta a potenza presso il Parco Hotel. Un momento di partecipazione per dare voce ai bisogni e alle esigenze di una categoria che riveste oggi a livello nazionale e regionale una grande importanza dal punto di vista economico e sociale. Vogliamo che le persone anziane pensionati siano rimessi al centro delle politiche di questo paese. Cosa che finora non è stata con questo governo. Noi vogliamo essere messi anche al centro del confronto sulle politiche previdenziali, fiscali, della sanità, sociali e in generale sulle politiche della vita delle persone anziane. Chiediamo pensioni eque che aiutino le persone ad andare avanti, che si recuperi la perdita di potere acquisto che nasce da un'inflazione che cresce e che ha colpito molto i consumi primari delle persone anziane. In Basilicata ci sono 196.000 pensionati. Il 50% della popolazione è pensionato. Ne vogliamo parlare? Ne vogliamo discutere? Vogliamo capire che cosa bisogna fare per la stragrande maggioranza di questa terra? Ecco perché secondo me esiste ancora una Basilicata differente, una Basilicata concreta. significa mettere in campo tutte le azioni concrete per dare loro una risposta.